Le tecnologie digitali sono un elemento imprescindibile dei processi di innovazione. Si tratti di manifattura, innovazione nella produzione, innovazione nella progettazione. Forniscono la possibilità e abilitano la gestione di una complessità nel mondo della power generation quale quella che andremo a vedere in questo decennio di grande impostazione della transizione energetica. Avremo a che fare con una produzione distribuita di energie, un consumo molto più distribuito, quindi la gestione dei dati e la digitalizzazione delle informazioni consentirà la gestione di un elemento complesso. Grazie per la visione!